Il maltempo non dà tregua alla Toscana, dopo una breve pausa tornano le piogge, a spezzare anche questo fine settimana. Illusorio era il sole delle ultime ore perché si fa strada a una nuova perturbazione. Codice giallo nel Gran Ducato per forti temporali associati al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle 20 di domenica 14 giugno. Lui ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale specificando che è interessata tutta la Toscana con attenuazione dei fenomeni per la zona meridionale nella giornata di domenica. Ci aspettano dunque precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentronali sparse su quelle meridionali. Insomma, gli acquazioni, anche localmente forti, non ci abbandonano nemmeno nella giornata di domenica. Ancora temporali sparsi, circoscritti per lo più alle zone interne centro-settentronali con cessazione sono in serata. L'instabilità sarà in graduale attenuazione a partire dal 18-19 giugno. A seguire torneranno finalmente l'alta pressione e le temperature nella norma per il periodo.